L'Azle Foggia cerca direttore di radiologia per l'ospedale di Manfredonia e San Severo e direttore di ortopedia per l'ospedale Masselli Mascia di San Severo. Pubblicati tre avvisi pubblici per il conferimento di altrettanti incarichi da direttore di struttura complessa attualmente vacanti. Gli avvisi pubblici sono per titoli e colloqui e tre incarichi avranno la durata di cinque anni con la possibilità di rinnovo. I requisiti che devono presentare i candidati e il profilo richiesto è sulla base delle indicazioni del collegio di direzione tenendo conto della programmazione aziendale generale e delle attività da svolgere. I bandi seguiranno il regolare iter di pubblicazione sul BURP e sulla gazzetta ufficiale. Le domande di partecipazione saranno redatte in carta semplice ed indirizzate al direttore generale dell'Azle Foggia. Inoltre devono essere presentate entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella gazzetta ufficiale quarta serie speciale secondo le modalità previste dal bando. E proprio in queste ore arrivano altre rassicurazioni relativi all'ospedale di Manfredonia che entro l'estate vedrà pienamente funzionante il pronto soccorso. La radio diagnostica e la riabilitazione è riportale una nota del Comitato Sanità Politico Popolare che chiarisce anche come l'obiettivo potrà essere raggiunto solo con l'assunzione dei dirigenti delle tre strutture e l'attivazione di 72 posti letto tra lungodegenza e riabilitazione. Mentre già in fase di esecuzione l'acquisto di due letti elettrocomandati così come avevano già garantito dall'Azle nei giorni scorsi due letti da inserire nella radio diagnostica e altre attrezzature necessarie per sostituire quelle ormai esauste e vetuste. Tra gli impegni assunti dalla Direzione Generale dell'Azle anche la messa a bando di 14 ore ambulatoriali di ortopedia specialistica ed anche in questo caso per potenziare il servizio già esistente e funzionante.